La nostra associazione si trova in questo momento a svolgere un ruolo di suppletti, in un momento nel quale stanno passando purtroppo con forza concetti come destra e sinistra sono superati, fascismo e antifascismo sono categorie del passato, istituzioni e amministratori che nel 25 aprile hanno un'idea di poco portarla per dare un termine educato, invece noi ci troviamo spesso da soli a combattere contro tutto questo e a volte rischiamo di dare un'impressione di quelli che dicono sempre no, che fanno i guardiani dell'ortodossia, di quelli che hanno la testa sempre rivolta ai tuoi, invece noi siamo per il futuro, con le nostre battaglie, con le nostre idee, con tutti i ragazzi che si sono iscritti e lo facciamo avendo in mano uno strumento formidabile per la nostra Costituzione, quella Costituzione nella quale tutti vivono a grande riconoscersi, tutti la onorano ma di fatto è largamente inserita e non mi riferisco solo alle norde che vietrano la ricostituzione del partito fascista, quindi è importante che noi ci ritroviamo insieme, resistiamo e andiamo a tutti, grazie. Grazie 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 se vuoi zoom qualcosa, la storia di questo nostro paese non a caso, la nostra costituzione è una delle costituzioni meno applicate e abbiamo provato a dirlo attraverso 6 miliardi nazionali che sono stati fatti su ogni argomento spedito sul nostro paese, spero a breve una pubblicazione oh bobi, adesso mi ricordo il record questo significa tenere ben presente a combiore il loro ruolo troppo spesso, questo non è avvenuto, troppo spesso non la viene e credo che di non dire una cosa strampalata che probabilmente ci troveremo di fronte a questa modalità di essere anche per il nostro paese io sottolineo questa cosa perché nella situazione attuale è stato richiamato c'è chi spinge l'Ampi a essere soltanto un'associazione della memoria un'associazione che porta le corone, noi le vogliamo portare e noi le vogliamo portare spesso di fronte a sottovalutazione del ruolo istituzionale della necessità di lavorare nel corso di tutto l'anno per la promozione della cultura democratica e antifascista in questo paese però non possiamo, non possiamo recedere l'Ampi a sollecitare l'istituzione a svolgere questo ruolo troppo spesso tra di noi c'è chi ritiene che mai sia inutile svolgere questo ruolo grazie